Sei interessato al mondo degli investimenti immobiliari? All'interno del mio canale potrai trovare diverse tematiche che vanno dalla compravendita classica, quindi trovo un immobile, lo acquisto, lo ristrutturo, magari lo fraziono e lo rivendo, oppure passando attraverso la cessione del preliminare, oppure ancora attraverso una trattativa extra giudiziale a saldo e stralcio. Potrai trovare dei video estremamente pratici, non dove ti descrivo soltanto l'attività che andrò a svolgere, ma mentre ti mostrerò proprio quello che sto facendo. Quindi mi potrai vedere mentre scelgo i materiali per una ristrutturazione e mentre ti descrivo quale materiale preferisco rispetto ad un altro, potrai vedermi mentre faccio la cessione di un preliminare direttamente dal notaio, potrai vedermi mentre faccio la proposta d'acquisto da un agente immobiliare, insomma tutte le attività che svolgo quotidianamente. In questo modo se sei un aspirante investitore immobiliare potrai conoscere realmente qual è l'attività che svolge un investitore immobiliare. Se invece sei un investitore immobiliare professionista ti potrai confrontare perché magari le tue tecniche sono differenti da quelle che utilizzo io e insieme potrai aumentare il tuo bagaglio di conoscenze. Bene, ora conosci quello che troverai all'interno del canale. Se desideri rimanere informato con tutti i nuovi video che pubblicherò ti è sufficiente iscriverti.